Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presentiamo il gioco da tavolo di The Expanse, la serie televisiva che sono arrivati se non era la terza stagione e forse se non dovrebbe essere una quarta in lavorazione, della WizKids e edito in Italia dalla Pendragon Game Studio. È un gioco da 2 a 4 giocatori, una partita media dura una sessantina di minuti ed è indicato da un pubblico ovviamente da 14 anni in su, quindi non troppo piccolo, non troppo giovane, mettiamola così. The Expanse è un gioco fortemente tematico, quindi è un gioco secondo me per tutti, può andare bene per tutti, però questo mi sento, come vedete alla fine nel voto che gli darò al finale, questo mi sento di consigliarlo, non vi dico quasi unicamente ai fan della saga, ma poco ci manca, perché è veramente qualcosa che ha un forte richiamo alla serie televisiva e per magari un giocatore che cerca un gioco spaziale, sci-fi, futuristico, insomma ambientato nello spazio, potrebbe non essere forse la scelta più indicata, ci sono altri titoli che magari sono un pochino più open, mettiamola così, anche perché The Expanse è tutto ambientato in una parte, in una frazione del nostro sistema solare. È un gioco competitivo, da 2 a 4 giocatori, dove ci sarà tutta quanta una parte politica e di conquista per appunto la conquista del sistema solare, pianeti importanti come Marte, Saturno, Giove, la Cintura ed altre cose, è quindi un gioco fortemente competitivo, dove potrà vincere soltanto una delle 4 fazioni presenti. Ma passiamo all'unboxing. La scatola del gioco è più ridotta che mai, forse fra tutte le scatole che ho visto finora è quella veramente più piccolina, ma perché ovviamente anche il contenuto all'interno, a livello di miniature e cose del genere segna netto, che non è poi molto, e tra l'altro è molto bellina, molto semplice, però mi calma anche il disegno che c'è sopra con la nave rosinante, per chiunque di voi appunto abbia seguito la serie. Apriamo. Il regolamento decisamente contenuto, poche regole, e questo mi fa dare anche a me un mezzo, ma se non un punto in più. Io sono di parte, lo ammetto, però secondo me i giochi più bellini e che funzionano meglio sono quelli che letto una volta il regolamento, ce li ricordiamo a memoria. E magari anche fra 5-6 mesi, se c'è da fare una partita con qualche amico, non c'è neanche bisogno di rileggere le regole. Quindi comunque già questo secondo me è un punto a favore di The Expanse. Una panoramica e delle regolette appunto per una prima partita veloce, ma tanto alla fin fine sono le regole veramente del gioco. È un sunto del regolamento, non vi dico potete leggere anche soltanto questo, ma quasi. Token che rappresentano ovviamente le quattro fazioni del gioco, quindi Marte, le Nazioni Unite, la Protogen e la OPA, più tutti quanti i token delle corazzate, delle flotte, ovviamente con i colori delle varie fazioni. La nave gialla, qua giù in fondo, è la Rossinante, che potrà avere soltanto una fazione. E poi le navi vecchie o antiquate. La mappa del gioco, vedete con il pianeta Marte, la fascia, poi ci saranno anche Saturno e Giove. E questa è una mappa decisamente bellina, anche qui molto facile. Le carte Evento, quindi mazzo unico per tutti i giocatori. Carte, cartine, piccoline, tecnologia. Varie schede delle fazioni, presente in gioco. Vedete, poi c'è la Protogen. E alla fine la nave, la Rossinante, con il suo equipaggio. E bustina con dei quadratini colorati, che sono praticamente le basi che potremo costruire nelle orbite e sui pianeti del gioco. Ragazzi, il contenuto della scatola è tutto qui per un gioco, ve l'ho detto, veloce, molto facile e contenuto nelle spese. Ora vi faccio vedere come funziona. La mappa di gioco è divisa in basi. Vedete nel caso della Terra, Eurasia, Africa e Luna. Nel caso di Cerere, appunto, c'è la stazione di Cerere. Nel caso di Vesta, la stazione di Vesta. Comunque tutti questi quadratini che vedete qui sono basi. Mentre invece il rettangolo accanto, sempre nello stesso poi raffigurazione generale del pianeta, è l'orbita. La mappa è divisa in quattro zone, come vedete, colorate e in settori. Quindi i pianeti interni, la fascia e i pianeti esterni. Quindi dei pianeti interni fanno parte i famosi Marte e Terra, che sono il punto di partenza delle due fazioni alla fin fine più importanti del gioco. All'inizio della partita, ciascun giocatore, ricordo che si può giocare da due a quattro, ciascun giocatore sceglie una delle schede della fazione che vuole usare. Ad esempio, o la Protogen, oppure potrebbe usare le Nazioni Unite, oppure l'OPA. E mi scuso se non c'è veramente la Repubblica Congressuale Marziana, ma purtroppo nella nostra versione, che deve essere un attimino difettata, ci sono due schede dell'OPA. Quindi non c'è. Comunque, va bene, vi faremo vedere come funziona con le fazioni che c'è in campo. Queste qui sono quindi le due schede delle due fazioni. In questo caso, in una partita a due giocatori, si andrà Nazioni Unite contro, ve l'ho detto, la Repubblica Congressuale di Marte. Però non essendoci, ci abbiamo messo la Protogen. Voi all'inizio girate le schede, e sul retro della scheda c'è scritto tutti quanti i componenti della fazione. Nel caso delle Nazioni Unite, dice, ci sono Carte Tecnologia 3, Cubo Influenza Blu 14, Cubi Diplomazia Blu 3, Segnalini Flotta Blu 5, Cubo PC Blu 1, e Segnale Iniziativa 1 1. Quindi voi prendete tutti quanti i componenti e li mettete nel quadrante, appunto, nella scheda di quella fazione. Nel caso delle Nazioni Unite, andrete a prendere 14 Cubi Influenza Blu, e 3, invece, Cubi Diplomazia Blu, che sono questi qui piccolini, li andate inizialmente a prendere, li mettete sulla scheda, perché poi dopo dovrete disporli sul campo. Ricordatevi che il giocatore che inizia per ultimo, e quindi che non ha l'iniziativa, dovrà automaticamente prendere la scheda della nave rosinante, e in più il token, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, questo qui piccolino giallo, che rappresenta la nave rosinante. Come vedete, ogni pianeta ha dei simbolini che rappresentano le risorse. Ad esempio, la Terra, su Eurasia, ha una risorsa di cibo, che è questa qua giù verde. Su Africa ha una risorsa d'acqua, mentre sulla Luna ha una risorsa viola, che è tecnologica. Sulla scheda della vostra fazione ci sono dei simboli. Ad esempio, le Nazioni Unite hanno dei bonus per appunto il cibo, e quell'arancione sotto, che sono i minerali. Questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che nel caso appunto la fazione delle Nazioni Unite vada a mettere una base e conquistare, che ne so, Eurasia, faccio un esempio, prenderà dei punti aggiuntivi, dei bonus aggiuntivi, per il conteggio a fine della partita, perché appunto una delle risorse principali delle Nazioni Unite è il cibo. Quindi controllando il cibo, in un satellite o comunque in una zona, avrà dei punti bonus più avanti. Ciascuna fazione inizia la partita con un tot numero di flotte, che anche questa lo trovate scritto sulla scheda. Ad esempio, nel caso delle Nazioni Unite, dice che sulla Terra hanno due flotte, su Cerere hanno una flotta, su Taiko una flotta e su Giove una flotta. Quindi, partendo dalla Terra, due flotte del colore blu, le metterete direttamente qui, per iniziare la partita, perché vi ricordo che la parte rettangolare è l'orbita, quindi hanno due flotte lì in orbita del pianeta Terra. Le zone, quelle che vi ho detto inizialmente, quindi pianeti interni, la fascia, pianeti esterni e quest'altra viola, che sono divise appunto da dei cerchi colorati, queste zone qui sono zone di movimento, perché durante il gioco vi sarà chiesto, se vorrete spendere azioni, di prendere una vostra flotta e spostarla da un punto ad un altro. Quindi nel caso dalla Terra ci si voglia spostare su Marte, alla fine è vicino come posto, perché vedete nella stessa zona dei pianeti interni. Però se io dalla Terra volessi spostare una flotta su Vesta, andando in una zona successiva, dovrò consumare un movimento per appunto prendere la flotta e spostarla dal pianeta Terra a Vesta, quindi da una zona A a una zona B. Ciascun giocatore a inizio partita prende un cubo influenza del proprio colore, quindi nel caso delle Nazioni Unite blu e nel caso della protogen grigio, e lo mette sul valore 10 del tracciato che vedete dell'influenza, perché questo è il conteggio dei punti. Alla fine, a fine partita, al conteggio finale, vincerà la fazione con più punti e quindi ogni volta che guadagnerete dei punti semplicemente lo sposterete sul tracciato per fare il giro. All'inizio del gioco ci sono delle regole particolari per mescolare i mazzi delle carte. Ovviamente i mazzi delle carte li mescolerete in modo differente a seconda del numero di giocatori che avete presente in partita. In caso di due giocatori c'è una regola, in caso di tre o più ci sono altre regole. Comunque, questo è un gioco a carte scoperte, sembra quasi una partita di Texas Hold'em, quindi mescolate il mazzo delle carte degli eventi e poi praticamente ne dovete pescare cinque e metterle qui accanto a questi numeri. Le mettete così accanto a questi numeri che magari siano facilmente apportate di tutti i giocatori e per questo appunto vi consiglio di tenere sempre centrale la mappa del gioco. Queste saranno le cinque carte presenti nel gioco che ciascun giocatore nel proprio turno ne potrà pescare una. Pescando una carta ci sono delle regole appunto speciali che ora vi faccio vedere. Nella zona conteggio bonus dovete mettere i sei token settore bonus ovviamente a faccia in giù perché se li girate sotto c'hanno una scritta in questo caso che ne so a pianeti esterni questa zona viola qui li dovete mettere casualmente e girare perché questi serviranno più avanti nel gioco per dare quella rigiocabilità o comunque quel fattore incognito che non saprà mai il giocatore e le fazioni in campo non sapranno mai se quale dei settori appunto avrà un bonus. In quel caso lì potranno aggiungere questo bonus al proprio punteggio per prevalere sulla fazione avversaria. Tornando alle cinque carte in campo come vedete ci sono cinque carte schierate ora il giocatore facciamo finta che ora è il turno del giocatore delle Nazioni Unite potrà scegliere di prendere una di queste carte. Per prendere una di queste carte c'è da rispettare come vedete un numero qui accanto che è un costo per prendere quella carta quindi il giocatore le visionerà tutte ma le possono vedere tutti i giocatori in campo perché è un mazzo di tutti comune e ne potrà scegliere una soltanto nel caso scegliesse questa spenderà zero punti queste due uno però vedete che qui in questo caso c'è una fazione delle Nazioni Unite che paga zero quindi le Nazioni Unite hanno sempre un piccolo vantaggio mentre le ultime due costeranno due punti se ne può prendere una soltanto anche nel caso avessimo punti da spendere per prenderle tutte mettiamo caso che il giocatore scelga questa spenderà zero punti mettiamo caso che scelga questa a meno che non sia delle Nazioni Unite spenderà un punto ma mettiamo caso che il giocatore abbia preso la prima carta che è quella che costa zero punti ogni carta ha un valore in punti azione come vedete qui due simboli che rappresentano le fazioni che potranno utilizzarla quindi le Nazioni Unite e l'OPA e sotto c'è una descrizione per quello che la carta farà ora il giocatore ha tre scelte che secondo me è veramente la cosa più carina del gioco può fare direttamente quello che c'è scritto sulla carta quindi può svolgere quello che c'è scritto sulla carta e a quel punto la carta verrà direttamente scartata rimossa dal gioco utilizzata quindi buttata negli scarti quindi può fare direttamente quello che c'è scritto qui ovvio se sopra la carta c'è il simbolo della sua fazione quello non ci piove se non c'è è anche inutile alla fin fine andarla a pescare oppure potrà non fare quello che c'è scritto ma utilizzare i punti azione che ci sono sopra i punti azioni possono essere utilizzati come ho detto all'inizio per costruire nove basi nei pianeti oppure spostare delle flotte da un'orbita all'altra per avere il predominio di un settore quindi nel caso decida di non fare quello che c'è scritto ma di spendere punti che sono qua sotto lui qua su in cima a destra lui avrà quattro punti azione costruire una base costa uno muovere una flotta costa uno e così via potrà spendere tutti quanti anche per costruire o più di una base o per muovere le flotte più di una volta ho detto flotte non flotta quindi con un movimento se avesse tre flotte nella terra potrà spostarle tutte e tre ad esempio su marte o su tot per fare un esempio comunque se non decidesse nemmeno di spendere questa cosa mi può dire spendo un altro mio punto come ho fatto prima ve l'ho detto per pescarle spendo un altro mio punto e questa carta qui invece che giocarla subito me la metto da parte quindi se la metterà nella sua parte di tavolo me la metto da parte per usarla in un secondo momento però se me la metto da parte per giocare in un secondo momento finisce lì me la metto da parte e si va al giocatore successivo se invece decido di fare l'evento si fa l'evento e si scarta se invece decido di usare i punti azioni qua su in cima però uso le azioni non uso quello che c'è scritto però darò la possibilità al mio avversario quindi quello direttamente dopo di me nell'ordine di iniziativa di risolvere l'evento che c'è scritto qui quindi nel caso della partita nostra di ora non c'è la protogen quindi il mio avversario non la può usare e quindi questa carta viene usata per i punti e scartata però nel caso il mio avversario fosse stato l'OPA invece il giocatore potrebbe dire fammi leggere un attimino cosa c'è scritto sotto sì mi interessa ok quello che c'è scritto qui questo evento lo svolgo svolge questo evento si sposta di iniziativa però questa è una carta che mi potrebbe tornare contro quindi c'è sempre da fare un attimo un calcolo per capire come usarla al meglio una volta che le carte una carta è stata tolta prima che inizi il turno del giocatore successivo si spostano le carte di su così andando sempre verso lo zero e si pesca una nuova carta dal mazzo e si mette qua giù quando inizia un turno devono esserci sempre 5 carte evento qui mai meno questo è un gioco alla fin fine semplice è un gioco senza dadi come vedete non c'è da fare nessun tiro di dadi né niente ed è un gioco che ricorda forse un pochino root perché qui si vince con la superiorità numerica qui si vince quando in un pianeta una fazione ha più basi ed ha più flotte in orbita quindi in quel caso si fa il conteggio delle flotte e delle basi che ha in orbita di un pianeta e si guadagnano ovviamente i punti per non parlare poi ovviamente dei bonus e cose del genere che si possono guadagnare nel corso dell'avventura o punti che possono invece essere guadagnati usando degli eventi particolari quindi il gioco è molto semplice è un gioco che della parte politica ne fa un pochino a meno di quello che serve in serie televisiva questo qui è un gioco più di supremazia ci sono 4 fazioni in gioco che si contendano appunto il nostro sistema solare e devono conquistare la mappa per guadagnare più punti possibili e arrivare a fine del tracciato le regole ragazzi sono ovviamente anche altre perché non ve lo spiegate tutto quanto a me piace farvi un'introduzione al gioco perché tanto poi c'è il manuale ve lo leggete per contro vostro e anzi è molto più chiaro di come ve la spiego io tra l'altro è scritto anche molto bene questo però le regole principali sono queste qui per un gioco che veramente è bello soprattutto perché si gioca a carte scoperte non c'è niente di nascosto né di segreto ed è un gioco secondo me molto interessante e molto veloce ragazzi le regole come vi ho detto sono altre però alla fin fine vi ho fatto vedere un po' come funziona non voglio fare i tutorial anche perché qualcuno mi ha detto in passato eh però devi fare questi video di 20-25 minuti troppo lunghi ed è giusto alla fin fine perché mi piace presentare il prodotto più che descriverlo minuziosamente nelle regole anche perché lo comprate anche il gusto di leggervi il manuale alla fin fine comunque è un prodotto molto interessante è un prodotto che come detto all'inizio però mi sento di consigliare unicamente i fan della serie televisiva perché io sono fan della serie televisiva che ho iniziato a vedere da poco ma mi ha preso veramente molto la guardo insieme a mia moglie e mi interessa appunto per questo l'ho richiesto anche alla Pendragon di avere una copia per la recensione perché è un gioco che mi interessa veramente tanto però è un gioco un po' prendiamo conto un Nemesis vi faccio l'esempio quello è un gioco spaziale per tutti perché magari ricorda un Alien vi faccio l'esempio o altri titoli di genere questo è un gioco che devono assolutamente avere i fan della saga ragazzi perché è veramente la trasposizione ludica perfetta della serie televisiva e non deve mancare assolutamente però per chi cerca un gioco spaziale non potrebbe magari secondo me essere proprio prettamente indicato è un gioco veloce è un gioco immediato è un gioco le cui regole veramente si imparano in brevissimo tempo l'unica cosa se ne devo fare un piccolissimo appunto il costo della scatola è ridotto ragazzi quindi veramente costa pochissimo cioè alla portata di tutti non si parla di 100 120 euro come tanti giochi ma quindi il costo è un terzo tranquilli si può prendere ci si diverte però magari avrei preferito i cubetti ci stanno le basi e tutto però magari metterci una navettina qualcosa come se vi ricordate nel vecchio Battlestar Galactica che per quanto anche quello fosse un gioco abbastanza ridotto perlomeno c'erano le navette dei viper e cose del genere ora uno non pretende una flotta una fregata fatta in resina però magari invece di pezzettini di cartone vedere una navettina ecco un 3D sarebbe stato bellino però ciò non toglie al divertimento del gioco anche perché se avete le modelline di astronavi in casa potete usare direttamente quelli lì perché l'avete visto è bizzarro come forme geometriche le astronavi nella serie di The Expanse comunque come vota il gioco assolutamente le do 7 sarebbe potuto essere un 8 se avesse avuto questa componente un po' più miniaturistica a costo di farla alzare anche di 20 euro il costo del prodotto però sarebbe stato un pochino più bellino mettiamola così però alla fine è divertente lo stesso secondo me il gioco è molto interessante e ancora ringrazio una volta la Pendragon Game Studio che ci ha fornito una coppia di recensione e ragazzi ovviamente lo dico sempre lo dico onestamente lo ripeto ogni video è un onore lavorare con voi perché avete sempre la disponibilità a mandarci i vostri nuovi prodotti a volte non anche prettamente nuovi per farci appunto una recensione quindi grazie ragazzi grazie di cuore ragazzi veramente 7 su 10 consigliatissimo e se siete fan della serie dovete assolutamente averlo dateci un'occhiata trovate tutti quanti i link in descrizione ci vediamo ragazzi alla prossima e fatemi sapere insomma nei commenti cosa ne pensate ciao belli